Salve, sono Davide Tabarelli, laureato in Economia a Modena, attualmente Presidente di Nomism Energia. Sono stato chiamato qua a parlare di scenari energetici, cosa che non è proprio così facile perché siamo in una situazione difficile. Le emissioni di CO2 continueranno a crescere nei prossimi 30 anni, come sono cresciute negli ultimi 20 anni, più 30%, nonostante tutti parliamo di stabilizzarle, ma sono aumentate di 12 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti all'anno, a 35 quelle da energia, mentre chi le ha ridotte solo all'Europa di uno, ma grazie a condizioni difficilmente ripetibili altrove. Perciò nei prossimi anni, perché si usa ancora tanto fossile, petrolio, gas e carbone, le emissioni cresceranno. Da qui l'urgenza di adottare misure più efficaci, fra cui anche l'efficienza energetica, fonte rinnovabili, costruzione di edifici più efficienti. Tanto per me è un onore essere qua, imparare e vedere come questi edifici, questa struttura, sta cercando di realizzarli e di fare sì che vengono adottate queste tecniche dappertutto.